Ciao! Allora, oggi è sabato? Oggi è sabato non so che è data. Sei in missa, vero? Sì. Cosa sto facendo? Sto facendo il smalto con le pecorele. Si vede? Beh! Abbasso e spiego. Allora, ho fatto il cielo che sia azzurro e la erba è verde, ovvio. Poi prendo il bianco. Oddio. Qua non ho fatto. Faccio a metà, così non è che ho una precisione. Allora, vediamo se riesco qui. Almeno su questo azzurro. Allora, vediamo se. Perchè con il pc non è che è gran cosa. Dopo prendo nero. E facciamo i piedini. Oh, cavolo! Dopo facciamo la testa. Dopo le orecchie. Beh, non so, quasi grandi le orecchie, però... Dopo facciamo due occhietti. e che io... Beccorella. Beh... devo prendere nero. E mettere proprio una puntina. povera me. Vado in palestra con le pecorelli. Beccorella. Beh... Se si era il numero. Quindi... Ho fatto... Ho fatto... B... Blu... Blu... Sì? Verde... Nero e bianco. Quindi... Ho fatto la striscia... blu... No blu... Zù... Blu... Celeste. Perchè questo neanche non mi guarda. Quindi... Dopo ho fatto con il verde. Non c'è una precisione. Io non faccio... Nell'arte di professione. E' un piacere. Quindi vengo a fare una cosa così. Una roba così. E dopo... La pecorella shimarita. .. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sto facendo una cosa perché io non sono esperta. Non mi piace fare. Le pecore e le schmarite. Se le unghie più grandi sono più belle. Le unghie grandi sono più belle. Ma neanche così non è male. E la sera quando non ho sonno cominciano. Un, due, tre, quattro. Ciao ragazzi e buon sabato a tutti e buone pecorelle.